Salve a tutti, salve da parte mia da parte di Paolo Minucci dal ristorante La Rondine di Guardia Grele per dar vita a questo evento. Un evento denominato Fantastico Over che ha preso lo spunto da una felice manifestazione svoltasi nei giorni scorsi a Chieti e che si vuole replicare nella versione al maschile. Qualche giorno fa decretammo il trionfo della Fantastica Over che tra l'altro tra poco vi presenteremo in giuria, questa sera decreteremo invece il Fantastico Over. Sono tutti uomini sopra i 40 anni di età che si sono simpaticamente e sportivamente rimessi in gioco e lo hanno fatto e lo faranno davanti ad una giuria tutta al femminile che avremo modo di conoscere più da vicino nel corso di questa piacevole serata che sarà anche impreziosita dall'intervento di cabarettisti, di barzellettieri, di cantanti, di musicisti, di balletti. Davvero una grande serata. Un ringraziamento anche agli sponsor ad iniziare da Euroterra, Movimento Terra e poi ancora Dress Auto Abigliamento, Desiderio Auto, Dame Bistro Caffè, poi ancora Verna Frantoio, Remax Venere, Agenzia Immobiliare, Angelucci Trasporti e Logistica, Moby Dick Autolavaggio, Buffetti Carafa. Insomma facciamo un grande applauso a tutti gli sponsor della serata. Saluto alla Mixo anche, mamma mia. Volevo salutare da subito Benito Taraborrelli, la padrone di casa che ha fortemente voluto animare questa speciale serata in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e questi uomini saranno gli artefici, gli artefici davvero di questa bella iniziativa anche noi.